Quello di Fabrizio Manzulli, vice sindaco di Taranto, nonché assessore allo sviluppo economico, non è certamente un bel esempio per Taranto e per i tarantini, tutt'altro. Infatti ha parcheggiato la macchina, la sua auto, qui nello spazio riservato al carico-scarico. È paradossale, proprio lui, assessore allo sviluppo economico, alle attività produttive, va a parcheggiare in uno stallo che invece serve come il pane alle attività produttive, proprio per i fornitori che arrivano e portano la merce. E io, avendo visto la cosa ed essendo rimasto davvero amareggiato, ho segnalato la situazione ai vigili urbani. Dopo un po' scende da Palazzo di Città un funzionario e sposta la macchina. Ha cercato di rimediare alla infrazione che è stata commessa e per la quale mi è stato detto che è stata elevata contravvenzione da parte del personale della Polizia Municipale. Ma mi domando anche un'altra cosa. Può un funzionario scendere da Palazzo di Città, quindi dal proprio posto di lavoro, non so, e spostare la macchina che aveva parcheggiato Manzulli? Non lo so. Chiedo, il funzionario avrà chiesto un permesso per spostare la macchina di Manzulli? Non lo so. Sta di fatto che il funzionario è sceso da Palazzo di Città. Anche questo c'è da capire in maniera molto, ma molto, approfondita. Così, la macchina qui non può stare. Infatti non lo so per gli è. Di chi è la macchina? A chi appartiene? Non so, mi hanno detto di spostarla, non so di chi è. Ho saputo che appartiene al vice sindaco Manzulli. Non glielo so dire. Ma è grave, è grave anche, deve essere sanzionata una cosa del genere, mi scusi. Qui la legge è uguale per tutti, deve essere sanzionata, è stata messa nello spazio carico e scarico, desidero che sia fatta la sanzione. È stata fatta, bene. Qualcuno non deve fare il furbetto a Palazzo di Città, la legge è uguale per tutti. Vice sindaco, si è parcheggiato qui la macchina prima. Ah, bel esempio. Dovevo venire al Consiglio. Eh beh, si può parcheggiare anche in un altro punto. Non voglio criminalizzare nessuno, né tantomeno il vice sindaco Manzulli, ma per uno come lui che tanto vanta il suo operato e quello dell'amministrazione, che se la profuma tanto, beh, c'è da dire che oggi è clamorosamente scivolato su una buccia di banana e le regole, caro Manzulli, valgono per tutti. Certamente non hai dato un buon esempio. Meditate Tarantini, meditate.